Sì, Marco hai ragione tu, almeno sotto l'aspetto statistico e numerico è il protagonista perché ha realizzato il gol del raddoppio di rapina, direi, di furbizia e poi il secondo con un movimento straordinario. Mattia Rodia, doppietta per te, tre gol del Chieti al cospetto di un capistrello che sulla carta poteva sembrare più remissivo e invece quando c'è da combattere ci mette sempre gli artigli in mezzo al campo. Sì, sapevamo che era una squadra che veniva qui per fare la sua partita e noi comunque mercoledì abbiamo fatto una grande partita, venivamo da una grande vittoria e il giorno dopo subito allenamento abbiamo ripreparato questa partita con loro e siamo stati bravi e devo dire che abbiamo lavorato tutti quanti bene. La fortuna di mister Lucarelli è anche quella, lo dico spesso, si volta in panchina e si illuminano gli occhi perché oltre a te ci sono tanti altri giocatori, però in diretta ho detto se il Chieti vuole toccare la quarta serie non può prescindere da Mattia Rodia, non solo perché conosce il campionato ma ogni volta che viene chiamato in causa risponde è presente. Sbaglio o ragione? Innanzitutto ti ringrazio, qui sicuramente in panchina siamo tanti, siamo 30 giocatori e tutte e 30 hanno la loro e la possono dire tranquillamente, dal più giovane al più vecchio. Quindi sappiamo che comunque la panchina è lunga, quando ci viene il mister ci chiamo in causa dobbiamo dare il massimo, siamo un grande gruppo e stiamo dimostrando di esserlo e poi per arrivare alla fine sicuramente l'anno dopo sarà un'altra annata, adesso pensiamo a finire il campionato così. L'Aquila ha vinto, ha vinto anche il Delfino, l'Angolana ha perso ma deve recuperare una gara, quali saranno le compagini che si giocano questa categoria? Le compagini, adesso io ho visto i risultati mentre facevo la doccia e ci aspettavamo il risultato dell'Aquila, un po' ce l'aspettavamo, siamo lì davanti, dobbiamo continuare ancora a macinare e niente, sicuramente l'Angolana rommollerà come l'Aquila che staranno insieme a noi ma noi in questo momento pensiamo solo e esclusivamente a noi, a Chiedi e fare bene qui e portarlo fino alla fine. Perfetto, io ringrazio Mattia Rodia che tra l'altro durante le interviste Marco non so se l'hai visto è ancora lì pronto a correre, tanto movimento evidentemente, è un lavoro di scarico che sta facendo, io ho fatto una scalinata già col Fiatoni quindi lasciamo stare. No, 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 sono pesanti, sono allenamenti duri con tutto quanto lo staff, però ci alleniamo bene, non sono duri dai, è giusto che ci alleniamo. Sì, 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 è stato difficile perché comunque veniamo da un lungo stop però diciamo che così in poco tempo stiamo raggiungendo una grande forma. Grazie, grazie a voi, grazie a voi. Marco, se vuoi concludo qui, abbiamo sentito, ascoltato le voci dei due mister e poi di quello che ha deciso un po' il match perché oltre al gol del vantaggio di consorte la partita ancora non era messa in congelatore e in ghiaccio, ci ha pensato lui con una doppietta, due gol differenti tra loro, a me personalmente ma credo anche a Mattia è piaciuto più il secondo e cioè quello del 3-0.